L'iniziativa culturale Leggere il territorio, leggere sul territorio a cura dell'area archeologica di Nervia a Ventimiglia è iniziata con la presentazione del secondo volume dedicato al Teatro Romano di Albintimilium insieme a una delle autrici, Sara Chierici, archeologa e assistente tecnico presso l'area archeologica di Nervia. Il secondo volume è un approfondimento per alcuni aspetti del precedente volume però io sono la curatrice dell'appendice che è conservata in questo secondo volume mi spiego meglio, il primo volume, quello che è stato presentato un mese fa riguardava la monografia sul Teatro Romano di Ventimiglia gli scavi condotti da Nino Lamboglia sono stati completamente studiati ma non solo quelli, anche gli scavi del 2013 e del 2016 perché erano tutti quanti legati al lavoro di restauro e di rifunzionalizzazione del Teatro Romano di Ventimiglia e il secondo volume presenta degli approfondimenti sempre legati al teatro ma soprattutto appunto questa monografia legata invece agli scavi condotti da Pietro Barrocelli ormai cento anni fa che erano stati pubblicati nel lontano 1923 e quindi sono scavi inediti però ovviamente una monografia che ormai è difficilmente reperibile e il mio compito è stato quello di rieditarla con un apparato fotografico aggiornato con nuovi studi, nuovi affondimenti Allora abbiamo deciso anche qui allo spazio dell'area archeologica di Nervi, all'Antiquarium di dedicare l'autunno-inverno a portare la lettura e i libri di chi ha scritto su questo territorio raccontarlo all'interno dello spazio del museo quindi unire la lettura, il libro all'aspetto storico-artistici e archeologici è un modo quindi diverso per vedere e apprezzare i contenuti fatti quotidianamente dal museo Grazie a tutti